Ma la Medea è una storia di vendetta o di pazzia? Sigla. Benvenuti all'ennesimo episodio del nostro Teta Te Teatrale. Ho perso il conto, credo che siamo intorno al 13. Esatto. E oggi abbiamo... Io ho fatto 13. Esatto, oggi è 13, è una giornata in cui grandina e diluvia, quindi direi che ci siamo. Meno male che non andiamo in onda di venerdì, altrimenti avremmo fatto l'amplein. Dunque, oggi parliamo della Medea di Oripide. Opera scritta nel 431, che è andata in scena nel 431 a.C., tra l'altro gareggiando insieme al figlio di... aiutatemi... Eschilo. Il figlio di Eschilo, esatto, è un'opera di Sofocle. E arrivò terzo. Non me lo spiegherò mai, evidentemente i classi hanno dei gusti diversi, perché francamente adoro Eudipide. Ma adesso... Un po' come Sanremo, cioè che arriva terzo. Esatto. Poi il figlio di Eschilo. Poi ha perso di più, no? Quello che ha perso vende di più. Esatto. Ma prima di iniziare a dare alle polveri, ovviamente avrete notato che non c'è la nostra pezzina, che ha avuto un piccolo problema. In realtà non è vero, è tutto un trucco di Federico Bava per poter avere 5 minuti in più per parlare, ma non... Esatto. E vedete che da quando c'è lui, una volta che è il figlio rimarrà solo lui alla fine. Sentirà e dirà le opinioni da solo. Comunque, ciao Cri! Ciao Cri. Esatto. Prima di cominciare, vi raccomando, correte a mettere mi piace a questo video e a seguire il nostro canale YouTube, ma anche andarci a mettere un grosso mi piace nella nostra pagina Facebook, compagnia, non fate caso a noi. Adesso cominciamo, e cominciamo, indovinate un po', proprio con Federico Bava. È così! Vendetta o pazzia, giusto? Vendetta o pazzia. Eh sì. Beh, sono quasi complementari, nel senso che è impazzita e si è vendicata. È impazzita di gelosia e di sofferenza e si è vendicata. Non credo che fosse così tanto premeditata, soprattutto vedendo un po' l'antefatto di quello che è accaduto prima, appunto, di quando viene raccontata questa storia. perché Medea si vendica, noi sappiamo attraverso la nutrice, se non sbaglio, ciò che è avvenuto e attraverso le sue stesse parole, parlando con Giasone, dovrei dire Giasone forse, ma vi viene da dire Giasone. Jason. Jason, con Jason. Quello che era successo prima, nel senso che queste due persone non le vediamo mai assieme. Comincia la storia che Giammedea è furiosa e vuole vendicarsi. Quindi, questa vendetta così tanto sanguinaria, non credo, non la vedo come una vendetta premeditata. Anche se, la cosa che mi fa più meditare di tutte rispetto a questa risposta, che possa essere una vendetta lucida e non una vendetta cosparsa di follia, è il fatto che lei comunque alla fine trovi anche una posizione importante, quella che forse si è sentita un po' mancare dall'ascito di Giasone, nel senso che va poi da Egeo, che è un re a sua volta, di Atene, quindi raggiunge la posizione regale che è ciò che ha spinto Giasone a lasciarla, per esempio. La stessa ragione si ripete, nel senso che lui voleva avere un parentado regale, la possibilità di succedere al trono. Desi, fai questa faccia, ma è vero comunque. Sì, ma non è che lei lo fa per quello? Cioè, lei è costretta a trovare una posizione perché non sa più dove andare? Non lo fa per quello, ma è molto sottile, però. Io trovo che sia molto profondo, nel senso che potrebbe esserci questa ragione, ma non trapela mai. Che proprio incontri per caso Egeo, questa cosa mi fa un po' sorridere, ecco. E il fatto che Egeo lo incontri per caso è perché lui è lì di passaggio, ma è l'interazione tra lei ed Egeo che è interessantissima. No, lì è proprio il suo essere intelligente, nel senso che è proprio da lì. No, è manipulatrice. Cosa? È una manipolazione. Lei è una donna fortissima in realtà, Medea. Medea non è una poveraccia, non è una vittima. È una donna molto forte in realtà. E infatti nel dialogo con Giasone gli tiene testa e lo asfalta letteralmente. Quando incontra Egeo diventa un pulcino. Per sembrare ai suoi occhi la povera vittima che da un certo punto di vista ci può stare. È stata anche la donna abbandonata. Sì, ma è una donna abbandonata, come ce ne sono state miliardi nel mondo, così come uomini. E quindi va benissimo, no? Non doveva ne dire così, perché tanto ce ne sono tante. Non dico che va benissimo. Non dico che va benissimo, assolutamente no. Però tutto quello che ne consegue dice moltissimo del carattere di Medea. Io ho un milione di cose da dire, quindi ridò la parola al capo. Concludi? E poi lascia... Io? Ma la mia conclusione è che... Oddio. Aspetta qui un attimo. La conclusione è che sia una vendetta... Aspetta, ho un attimo di defiance, un secondo. Diamo nel frattempo la parola a Omar. Lascio fremere un po' un attimo. No, ma tagliela questa, facci un cut, per favore. Parlo apposta per farti fare un cut su questa cosa un secondo. E diamo la parola a Omar Vestri. Lascio cuocere nel suo brodo ancora massimo ancora un po'. Sì, allora, sperando di non venire interrotto, cosa posso dire? Che è un... Ma cosa è la pratica del tettate quello di essere interrotti, Omar? È la cosa bella del tettate. Prego. Vai, buoni, buoni, vai Omar. No. È molto horror come storia. È molto horror. Parte malissimo e si sa già dove va a finire. Cioè, non vedo troppa speranza, ecco. Il fatto che Medea sia fortissima, non dimentichiamo che lei è una maga, quindi perché è discendente direttamente dagli dèi, e tant'è che aiuta Giasone alla conquista del vello d'oro con gli argonauti. E come diceva Massimo, lei tiene molto testa a Giasone. La pazzia, la vendetta che segue la pazzia o la pazzia che segue la vendetta. Io trovo che nella sua follia sia sorprendentemente lucida, tranne in alcuni momenti in cui sembra effettivamente lì sul quasi lasciare questo suo intento. Secondo me, lei, tornando al fatto di Egeo, che capita lì per caso, lei è molto scaltra, riesce a cogliere subito il... a girare la situazione a suo favore. Tant'è che probabilmente sa già che nel finale lei potrà fuggire da questa cosa qua. Perché alla fine Piglia se ne va sul suo carro alato. E ci viene presentata come la più scaltra, come una delle donne più scaltre. Penso che sia la figura più potente del teatro che ci sia mai stata creata. Ed è molto... ed è molto bello. È molto horror perché io poi lo guardavo, mi sono letto il libro, mi sono letto l'opera e ho guardato una cosa che avevano fatto in Rai negli anni 50-60 e comunque la cosa che mi ha lasciato è che si sa già che inizia tutto, ma sì che è una tragedia, si sa già che è una tragedia, ma se si sa già dove va a finire, quasi speri che non finissi in quel modo, perché a un certo punto dici no, ma non li ammazzerai veramente. Invece lei è dritta, lei ha... Io penso che sia perché sia di lignaggio quasi semi-divino, ecco, è il fatto che comunque non vedo... Ma allora, sì, una maga, in realtà io forse la vedo, come dicevo prima, una pazzia che porta la vendetta, eccetera, e anche un po' di arrivismo, dal fatto che comunque lei sia una regina barbara, arriva da una terra che non ricordo il nome... Dalla Colchide. Dalla Colchide, che è l'attuale Georgia, più o meno. arriva da lì e incontra Giasone prima e non sappiamo se si sia comportata così anche con lui all'inizio, perché da regina barbara vede la civiltà greca comunque come un grandissimo punto d'arrivo per lei, questo a livello di società. A livello umano è molto gelosa di quello che è accaduto, per il fatto che Giasone l'abbia lasciata per questa Glauce, figlia di Creonte, è stata accolta da moltissima gelosia e da un orgoglio ferito e oltre al fatto di essere una barbara in terra straniera l'ha portata alla pazzia e ha deciso di vendicarsi manifestandosi un po' come quelle che sono le sue origini, voglio dire, in una maniera molto barbara. Anche perché Giasone non è che l'ha tradita per amore vero e proprio. No, Giasone la ama, Giasone la ama ancora. No, no, l'ha ama ancora, però Giasone non ama nessuno. Ma per favore, l'unico che ama Giasone è se stesso. È succube però, è succube, comunque è inferiore. Giasone non ama nessuno, ragazzi. Lui è un dico da dove... Non se stesso ama Giasone. Vi dico da dove mi arriva questa. Il potere ama Giasone, non il sesso. Esattamente, esattamente. Cosa mi ha... Io poi, cioè, lascio la parola, però cosa mi ha influenzato in questa parola? Desi, ti devo rispondere perché ti arrabbi troppo, quindi voglio farmi perdonare. Scusate, ma sono l'unica donna qui oggi e quindi... Appunto, io cito un autore, vabbè, non dico altro, comunque ho visto la Medea di Pasolini che descrive molto bene anche l'antefatto, cioè segue Giasone da piccolo. Nel rapporto a due tra Giasone e Medea si vede che comunque Giasone a livello di passione e di cuore ha avuto molto da Medea e le deve molto ed è attratto da questo punto di vista. Quindi a livello sentimentale e passionale comunque penne un po' più per Medea. Però è un po'... Nella Medea di Euripide non dice questo Giasone. Giasone gli dice, io ti ho tirato via dalla barbarie, quindi siamo pari e fatta, non rompere... Però è molto colpevole, ci va molto piano comunque, ci va molto piano, ecco, con lei. No, cerca di farla ragionare, cerca di farla ragionare, questo sì. Non solo, secondo me è un pochino influenzato anche passionalmente, emotivamente, ma non ha più il coraggio di fare mosse. Lui ormai si vede come erede al trono. A lui Medea è servita... Io non sono neanche sicuro dell'amore di Giasone verso i figli, sinceramente. No, non c'è. Sì, anche lì c'è qualche dubbio, anche se sembra che sia particolarmente... È giovane e ingenuo comunque lui, mi dà tanto questa impressione più che altro. Non sa bene quello che sta facendo e non sa bene con chi ha a che fare. A parte che per rispondere a Omar non c'è amore dei figli nel momento in cui lui ha abbandonato anche loro. E Euripide lo dice benissimo. Perché lui quando decide di andare al trono abbandona lei e i figli. Poi nel momento in cui lei diventa pericolosa, perché diventa pericolosa, allora lui fa quello che fa la parte. Sono venuti un po' i miei figli. Però in realtà non gliene è mai fregato niente prima. ma non ha amore nemmeno per loro. E secondo me è la cosa di cui non teniamo conto. Anzi, per rispondere alla domanda, io ci vedo poca follia, nel senso che... Follia nel dolore, però lei sa quello che fa. Lei stessa parla di piano, che è una cosa che ha pianificato. Seppure i fatti accadono, comunque non penso che si siano sposati due giorni prima, ma comunque lei ha pianificato le cose. Come si dice? Ho perso il filo, scusate. Che l'ha pianificato. Però io se vuoi ti rispondo e ti dico che l'ha pianificato in uno stato di follia. Esatto, sono d'accordo anch'io. Cioè lei... No, perché quello di cui non teniamo conto è il fatto che lei, per Giasone, ha fatto di tutto, compreso uccidere suo fratello. Lei, per Giasone, ha lasciato la sua patria, ha abbandonato suo padre, ha ucciso suo fratello, ha fatto uccidere Pelia, mi sembra, perché non voleva che Giasone andasse al potere. Cioè lei, per Giasone, ha fatto di tutto. Il contrario. No, in realtà... Perché Giasone andasse al potere. Sì, perché Pelia doveva ucciderlo perché gli era stato detto da un indovino che doveva temere l'uomo con un solo sandalo. E questo era stato ciò che gli era detto dall'indovino. Ed era Giasone. Allora, pur di non averlo vicino, gli aveva proposto di prendere il vello d'oro. sapendo che non avrebbe fatto ritorno. E lei ha ucciso il drago che voleva, che avrebbe dovuto sconfiggere Giasone. L'ha aiutato Medea, è stata fondamentale. Grazie a quell'intervento ha recuperato il vello d'oro e comunque ha vinto un'impresa e non è stato sufficiente. E in più ha ammazzato suo fratello e ne ha sparso i pezzi in giro in modo che il padre raccogliesse i pezzi perdendo tempo e loro potessero fuggire. E questo cosa ti dice? Che lei ha fatto tantissime cose per lui. No, sì, questo è vero, ma ti dice che è pazza. Allora, cioè Medea ha i germi della follia che esplodono nel momento in cui Giasone la molla. Medea, secondo me, è una persona che ha una personalità scissa. Passa da picchi elevatissimi a abissi infernali. Quando lei si innamora di Giasone, fa la qualunque per lui, e hai ragione, ma perché ha 17 anni quando si innamora di Giasone, 17, quindi è una ragazzina, perde completamente la testa e fa delle cose folli. Uccide il fratello, uccide il fratello. Poi Pelia non lo conosce nemmeno, ma uccide il fratello. E si condanna lei stessa a una sorta di esilio dalla sua terra. Questo ci dice che Medea, quando è presa dalle passioni, non ragiona più. È presa completamente dalla follia. Lei è una donna estremamente passionata, tra l'altro è un personaggio spettacolare. È uno dei primi personaggi femminili che prende la scena completamente nel teatro. Ed è, tra l'altro, secondo me da un certo punto di vista ne esce anche bene, però è folle. E la sua vendetta, vero che è pianificata, ma è vero che anche i folli sono in grado di pianificare le loro uccisioni. Guarda i serial killer. Serial killer hanno in sé la follia, ma pianificano i loro omicidi. Lo pianificano come un film, diciamo oggi, o lo pianificano comunque come qualcosa di immaginifico nella loro testa, perché comunque avrebbe potuto agire in un altro modo. Se proprio così sanguinari avrebbe potuto semplicemente eliminare la sposa. Ma anche Giasone, ma anche tutta quella famiglia che non la voleva. Lei invece uccide il sangue del suo sangue. Se noi lo riportiamo nella realtà attuale. Una donna, lo vediamo spessissimo, donne e uomini che si separano si fanno la guerra con i figli. Cioè, magari una donna toglie i figli al marito e non glieli fa più vedere. Quella è vendetta. La follia è invece la donna che si butta giù dal cavalcavia insieme ai figli per fare danno al marito. È come quell'uomo che dice che mi taglio il luccello per fare dispetto alla moglie. Più o meno uguale. Cioè, la follia... Questa è spessino quasi quanto Giasone, comunque, devo dire. Eh, cioè, nel senso che... Scusate. Nella realtà attuale, se noi lo vediamo, ma anche nelle altre realtà, una donna che vuole vendicarsi di un uomo, gliele fa pagare di tutti i colori. E se vuole usare i figli, li usa come merce, come arma. Cioè, li mette contro, non glieli fa vedere. Una donna che è folle, scusami, Giuseppe, una donna che è folle, ammazza i figli. E questa è la differenza, secondo me. Dimmi pure, Giuseppe. Ma prima hai detto il contrario, appunto, che una donna folle è quella che si ammazza insieme ai figli, mentre... Anche! Anche! E lei utilizza i figli per fare un dispetto a Giasone. No, no, io... Scusami, io parlavo nell'attuale, nel mondo attuale. No, ma l'ho fatto indietro, me l'ha ammazzato i figli per fare un dispetto a Giasone. Sì. Ma è dettata dalla follia questa decisione? Ma non è lucida se stessa, quindi non è quel tipo di follia... Se sei follia, è follia lucida. Proprio perché Medea, come diceva giustamente Federico, in realtà ha anche dell'arrivismo dentro di sé. Lei, in realtà, il fatto di essere stata messa da parte, di essere seconda, l'ha destabilizzata parecchio. Tanto è vero che, come vi ho detto, è una manipolatrice. Lei ha De Geo, sembra l'agnellino da salvare, e infatti Egeo se la sposa. Ok? Cioè, e questa è la differenza tra una folle completa, che si ammazza insieme ai figli, e una folle manipolatrice, che ammazza i figli per vendetta, e però, però, ottiene un risultato per sé. Tanto che, quando va da Egeo, vuole ammazzare il figlio di Egeo, perché il suo figlio erediti il trono di Egeo. Cioè, la follia l'accompagna questa donna. E' sempre con lei, sì. Poi è spettacolare, io la adoro, Medea, però, cazzo è folle. È folle perché ammazza il fratello, è folle perché fa gli intrugli, è folle perché sta povera disgraziata di Glauce. Muore tra lì, inatroci, sofferenza, non c'entra un cazzo lei, praticamente. Cioè, l'hanno messa lì, è un matrimonio di politico quella roba lì, eh? Sì, certo. Ma è quella che ne paga la consapevolezza in una maniera esagerata, anche lei. Bene, bene, bene. Provo a buttare lì una bomba che deflagherà, deflagrerà in mezzo a tutto questo. So già quali saranno le reazioni, quindi preparate voi che siete a casa. Vi butto lì una cosa. A me piace sempre contestualizzare. Vi ricordo che i greci erano un po' fissati per alcune cose, per lo iubris, per la divinità, per il fato e per la giustizia. Ci sono dei passi in cui viene fuori molte volte il concetto di giustizia, le parlano tutti all'interno della Medea e il Medea stessa più volte dice non è tanto il fatto che mi abbia tradito, è il fatto che tradendomi ha rotto il giuramento e lei si incazza e fa tutto questo per il giuramento rotto. Tanto che appunto per quanto riguarda Egeo lo costringe alla lealtà facendolo giurare, tanto che appunto già ci rimane anche un po' male. Dice come non ti fidi, sono io, ci conosciamo, se no giura. E anche davanti, sia davanti a Creonte che davanti a Giasone non fa altro che rinfacciare questo. Cioè lei è una donna ferita non tanto per quello che è successo ma per il giuramento. Quindi secondo me può essere visto tutto come un riportare la giustizia che è un concetto diverso da quello che abbiamo noi, è un concetto diverso anche dell'essere ferito, dell'essere maltrattato rispetto a quello che possiamo avere noi oggi. Però secondo me può essere visto anche come un riportare la bilancia della giustizia più in pari. Cosa c'entrano i figli in questo? Io lo capisco quello che dici. Allora, allora, vendicati di Giasone, vendicati di Creonte, vendicati anche di Clauce se vuoi, ma non c'entrano niente i figli se vuoi la giustizia. Una cosa è la giustizia, una cosa è la vendetta. Però cosa fa Giasone con i confronti di Medea? La lascia sola al mondo, senza un posto dove andare e con i figli a carico, tra virgolette. In realtà gli propone anche qualcos'altro, furbescamente perché lui è un paraculo straordinario, le propone siamo tutti tranquilli, io mi prendo i figli. Se tu fossi, lei gli dice anche ma se tu fossi stata buona e tranquilla non sarebbe successo un cacchio. Questa per me è tutto un magheggio politico, non hai capito che ci guadagniamo tutti. Gliela mette così. Cioè per Giasone se lei avesse accettato supinamente di essere l'altra, magari che non aveva manco rapporti ma tranquilla lui magari gli passava dei soldi, la trattava come come una signora, lui era bello che è contento perché è un poveraccio è proprio certo. Lui che sia un poveraccio è chiaro, è solo uno che ha una rivista. Il giuramento l'ha fatto il giuramento l'ha fatto anche Giasone comunque. Però è qui la differenza secondo me un po' sociale della cosa premesso che anche la follia di Medea e in generale sia frutto anche della società. Medea arrivando da una civiltà barbara rispetto a quella greca e il cantore in questo caso è greco quindi ne esalta la potenza di questa civiltà si è elevata culturalmente, intellettualmente eccetera fino a vedere attorno a questi giuramenti alle questioni magiche non mi viene forse bene la parola che vorrei usare ci sia della fantasia anche e possano essere aggirate col raziocinio cosa che succede in quasi tutte le opere c'è sempre un tradimento un raggiro di ciò che è considerato sacro persino degli dei non ci sarebbero le opere e forse questo è quello a cui non arriva Medea in quanto Barbara e reagisce al tradimento di un giuramento con una sanguinaria vendetta perché non riesce del proprio intelletto detto questo perché ho detto la società perché comunque Medea lì è a Corinto a casa d'altri umiliata dall'erede al trono dalla principessa dal re dal suo uomo quindi si sente davvero a quel punto mistificata è proprio sopraffatta è arde di gelosia è proprio di una bramosia di vendetta davvero sanguinaria e la porta un po' alla follia sì cioè alla follia Desi scusa no ho solo riso in realtà no no dico poi anche questo suo esser senza fissa dimora insomma è pesante nel senso che ci sono tanti esempi di persone che non di persone di personaggi anche che non riuscendo a trovare il loro posto nel mondo insomma danno di matto e commettono i crimini più efferati o per contro magari si chiudono in un mondo ancora distinto in un loro mondo ancora più completamente distinto più completamente distante sì io trovo che il cosa della giustizia sì viene spesso toccato e sostanzialmente anche un po' il pulcro di tutte le tragedie secondo me nel senso la giustizia di quello dov'è quello io qua in questa ne vedo ben poca ne vedo veramente ben poca secondo me è un gran è una grande escalation di pazzia una grande escalation di ricerca del potere una grande escalation di arroganza una grande come dicevo prima questa è una tragedia che secondo me non lascia neanche per un secondo la possibilità che qualcosa in qualche modo astruso si metta bene cioè parte male parte male e e finisce peggio 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 è un po' una trama di più pronunciata in questo caso c'è un momento c'è un momento in cui speri che la tragedia non sia tragedia non ammazzi i figli nel premonologo forse il penultimo monologo quello dell'episodio 5 quando lei lì è proprio la scissione quando lei dice gli ammazzo no no ma che cazzo dici non li ammazzare ma cosa dici no no ormai ho deciso ma sono i tuoi figli non li puoi vedere più la mano cioè come se ci fossero due personalità dentro di lei che si parlano come una persona scissa viene viene anche dalla letteratura dagli studi viene vista come una persona scissa in due in due personalità che combattono tra di loro e lì poi prevale quella distruttrice quella che uccide ultimi minuti a nostra disposizione intervento di desi allora io comunque la ritengo un grandissimo personaggio una donna fortissima che secondo me vuole anche riportare giustizia io ci vedo anche della giustizia perché quando lo leggevo a un certo punto dicevo ho letto delle frasi che dicevo sono quasi un manifesto femminista questa cosa cioè lei dice lui lo può fare perché è uomo si gira si gira perché gli interessa quella cosa lì io che sono donna sono costretta a essere cacciata tra l'altro dal posto dove sono perché lui ha fatto questa cosa io non lo potrei mai fare questa cosa qua non lo posso ripudiare dice cosa? non lo posso ripudiare dice io non lo posso nemmeno ripudiare le donne non lo possono ripudiare c'è un come si dice c'è una differenza abissale tra uomo e donna che lei tra virgolette è come se cercasse di riportare sullo stesso livello da quel punto di vista lei la riporta sullo stesso livello esatto e comunque dimentichiamo sempre che Giasone l'ha voluta possiamo anche dire che la conosceva sa che cosa ha fatto e lui stesso comunque che non è intelligente ha rischiato facendo quello che ha fatto infatti l'ha pagata e comunque Giasone ne viene fuori proprio male da quest'opera a me io mentre lo leggevo le battute che diceva Giasone mi faceva salire un nervoso che dicevo brava Medea vai 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 io lo so che perché tra l'altro è l'unico che non muore non muore come li fatti suoi ma non muore lui esatto a quel punto per come l'ha lasciato lei è molto peggio che sia rimasto vivo ed era anche ed era lo scopo di Medea stessa poi brutta cioè poi oltretutto uno che ha compiuto anche le imprese in cui gli dice invecchierai solo e senza figli e vedrai che cosa significa quindi quello che dicevo prima che appunto lo scopo di tutto questo era restituirgli i pan per focaccia tra l'altro appunto persino Creonte che è un po' il cattivo della situazione ha ancora un senso quello che dice è interpretabile mentre proprio Giasone senza appello senza nessun senza nessuno scopo Creonte secondo me ha paura ha paura lo dice anche tranquillamente sì glielo dice che la teme ma se ti lascio lì per me ammazzi o ammazzi mia figlia quindi devi sparire però allo stesso tempo anche lui tutti gli uomini lì in quell'opera si fanno tra virgolette abbindolare e fregare ad Amedea perché anche lui gli concede un giorno lei gli chiede un giorno quindi torniamo del fatto che lei è una bravissima manipolatrice assolutamente ma io la vedo una cosa negativa però hanno tutti paura di lei anche Giasone ha molta paura di lei però Creonte è un po' più anziano ha una posizione diversa quindi ha una paura più consapevole le dice persino di cosa ha paura nello specifico dei suoi magheggi delle sue soluzioni di cosa può essere capace Giasone è ignaro un po' di queste possibili conseguenze ma la teme si sente molto inferiore a lei se entrambi la spaventano come figura femminile perché poi va a dirle sono io che ti ho portato in Grecia e ti ho messo in questo status quando tu sei solo una barbara sì lui si nasconde dietro gli dèi dicendo che è stata Afrodita ad aiutarlo e a farla innamorare ovviamente si affida agli dèi ti piaccio c'è Desiderio c'è Afrodita e c'è Eros che ti ha scoccato la freccia quindi in realtà è colpa loro ma Giasone non è un atteggiamento ma le cose da dire sarebbero tantissime ma il tempo a nostra disposizione è terminato quindi vi salutiamo qui salutiamo ancora Cristina dall'altra parte dello schermo ah non si dice più niente io avevo mille altre cose da dire figura femminile del tempo ma lasciamo parlare anche i nostri spettatori che sotto ci scriveranno chi ha ragione oppure a cosa pensate se avete altre opinioni e soprattutto se avete anche altre opere su cui volete che ci scanniamo come ormai nostra abitudine settimanale quindi mi raccomando commentate lasciateci un mi piace seguiteci sul nostro canale YouTube non fate caso a noi oppure sulla nostra pagina Facebook compagnia non fate caso a noi infine in modo un ultimo profilo Instagram non fate caso a noi noi ci rivediamo settimana prossima mi raccomando andatevi a vedere il punto della trama sulla Medea che è uscito questo sabato sabato scorso e alla prossima ciao 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 commentate